Rocco Papaleo ci riprova. Dopo il fortunato Basilicata Coast to Coast, l'attore e regista Lucano torna sul grande schermo con un nuovo prodotto cinematografico che lo vedrà protagonista insieme a Riccardo Scamarcio. Il film, una piccola impresa meridionale, uscirà nelle sale il prossimo 17 ottobre. La pellicola porta il nome del suo ultimo lavoro teatrale, ma, spiega l'attore lauriota, è solo per una questione scaramantica. Nel film, infatti, il protagonista è un gruppo di persone che per motivi disparati si ritrova a vivere in un faro in disuso. All'inizio cercano di riparare il tetto, poi col passare del tempo decidono di abbellire interamente il faro finendo per abbellire le loro esistenze. In quanto alla collaborazione con Scamarcio, Papaleo ha svelato che è nata quasi per caso dopo una serata a casa sua passata a suonare insieme ad altri due musicisti. Non a caso Scamarcio interpreterà il ruolo di un pianista velletario, un personaggio timido e un po' sottotono, ma che poi riesce rifiorire. Papaleo invece vestirà i panni di un prete che ha abbandonato l'abito talare. Nel cast del film anche Barbara Bobulova, Claudia Potenza, Sara Felberbaum e la partecipazione di Giorgio Colangeli.